Musica Si è spento Monsignor Lino Belotti, vescovo ausiliare emerito di Bergamo. Era nato a Comenduno di Albino. Lunedì i funerali in Duomo. A poco meno di un anno dall'apertura dell'ufficio turistico Vivi Ardesio mette online il nuovo sito web. Si punta soprattutto sui pacchetti turistici. Pieno di medaglie per il Karate Club di Clusone e i campionati italiani UKS. 4 d'oro, 5 d'argento e 6 di bronzo. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, la chiesa bergamasca piange Monsignor Lino Belotti, vescovo ausiliare emerito di Bergamo, che si è spento oggi all'età di 87 anni. Nato a Comenduno di Albino, era molto legato a un altro sacerdote della Val Seriana, il beato Sandro Dordi, con il quale aveva condiviso esperienze di apostolato missionario nella comunità dei preti del Paradiso. Spazio a questo servizio che lo ricorda. Si è spento a 87 anni dopo una lunga malattia Monsignor Lino Belotti, vescovo ausiliare emerito di Bergamo. Era nato a Comenduno di Albino il 19 ottobre 1930. Dopo le scuole elementari, entrò nel seminario diocesano, poi nella comunità missionaria del Paradiso. Ordinato sacerdote, il 12 giugno 1954, venne destinato alla diocesi di Comacchio e poi parroco a Goro di Ferrara, sul delta del Po. Nel 1966 il trasferimento in Svizzera come cappellano fra gli emigranti e poi come direttore dei missionari per gli emigranti italiani. Nel 1981 tornò a Bergamo come superiore della comunità missionaria del Paradiso. Dal 1987 al 1996 fu a Roma come direttore generale della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 1996 venne scelto come vicario generale dal vescovo di Bergamo Roberto Amadei. Il 15 maggio 1999 la nomina a vescovo ausiliare. Ricevette la consacrazione episcopale il 29 giugno successivo in cattedrale. Dal 2002 al 2008 fu presidente della Commissione per le Migrazioni della CEI e nel 2005 anche membro del Pontificio Consiglio della Pastorale dei Migranti e gli Itineranti. Il 22 gennaio 2009 la Santa Sede accettò le sue dimissioni da vescovo ausiliare per raggiunti limiti di età. Il vescovo Beschi lo confermò vicario generale fino al 16 ottobre 2009. Negli ultimi anni per motivi di salute si era ritirato nella casa di cura Maria Consolatrice della Pia Fondazione Piccinelli a Scanzorosciate dove è spirato. La salma è composta presso la comunità missionaria del Paradiso a Bergamo in via Carlo Cattaneo 7. I funerali saranno celebrati nel Duomo di Bergamo lunedì alle 10.30. Cambiamo decisamente argomento. Il turismo ormai viaggia sempre di più in rete, internet e social network sono diventati indispensabili per farsi conoscere. Così a poco meno di un anno dall'apertura dell'ufficio turistico, Vivi Ardesio ha messo online un nuovo sito internet. Scopriamo con quali obiettivi. Da alcuni giorni è online nel nuovo sito internet viviardesio.it. Ne parliamo con Gabriele Del Bono che tra l'altro è il più giovane membro del consiglio di Vivi Ardesio e si occupa appunto del sito internet. Parliamo appunto di questo nuovo portale. Sì, il nuovo sito internet è stato rivisto in veste grafica, una veste grafica più pulita e essenziale con caratteristica di design responsive, una caratteristica molto importante ai giorni nostri che rende disponibile il sito sia su pc, smartphone e tablet. Quali sono poi le novità? Il sito, il nuovo portale, è nato per ospitare i pacchetti turistici, quindi proposte di guide e visite guidate sul territorio di Ardesio. In particolar modo sul nostro portale sono attivi tre pacchetti. La visita guidata al santuario della Madonna delle Grazie, un percorso storico e culturale all'interno del centro storico di Ardesio e per concludere una proposta naturalistica, quindi una passeggiata nel territorio della Val Canale con pranzo convenzionato a rifugio Alpecorte. Un'altra novità del nostro nuovo sito è la sezione Social Wall che permette di visualizzare le immagini caricate direttamente dal nostro profilo Instagram. Ovviamente non andiamo a perdere le feature aggiunte negli anni precedenti come possono essere la live cam o la live chat dove un utente, un visitatore può chattare direttamente con Stefania e quindi chiedere informazioni su Ardesio e pacchetti turistici direttamente dal nuovo portale. Ovviamente la veste grafica del sito non è niente senza l'indigizzazione. Questo cosa significa? Che abbiamo pensato e sviluppato il nuovo portale in ottica SEO che possa quindi essere indicizzato al meglio sui motori di ricerca come possono essere Google ma non solo. Questo cosa significa? Questo è stato fatto per raggiungere un maggior numero di visitatori e quindi possibili turisti ad Ardesio. Il lavoro ovviamente non è finito, stiamo continuando a migliorare le performance e ad aggiungere nuovi contenuti e tenere sempre aggiornato il nostro blog. Ovviamente vi invitiamo a visitare il nostro nuovo portale www.viviardesio.it ed iscrivervi alla nostra newsletter. Diamo anche qualche numero, quanti sono gli utenti che visitano il sito? Dagli strumenti di analisi che abbiamo per monitorare il traffico sul nostro portale si evidenzia che dall'inaugurazione dell'ufficio turistico che è stato aperto l'8 aprile 2017 ad oggi i visitatori sul nostro sito sono stati oltre 62 mila. Ricordiamo anche che Vivi Ardesio può usufruire di un budget di 120 mila dollari annui per le campagne pubblicitarie online. Cresce l'Università di Bergamo sia nell'offerta formativa sia nelle relazioni internazionali come peraltro vi abbiamo detto anche nei giorni scorsi. Domani per gli studenti delle superiori ci sarà la possibilità di conoscere l'Ateneo da vicino, è il primo degli Open Day programmati quest'anno. Domani in programma il primo dei due appuntamenti con cui mostrare l'offerta dell'Università degli Studi di Bergamo. Sì, domani c'è il primo dei nostri due Open Days dedicati alle quinte classi delle scuole superiori. Diciamo che poi ce ne sarà un terzo che sarà dedicato alle quarte classi in maggio. Domani partiamo, l'Open Day tradizionale si è fatto in due quest'anno per eccesso di rialzo. L'anno scorso abbiamo avuto tantissime richieste, tantissime presenze e allora quest'anno le abbiamo distribuite su due giornate. Una prima giornata domani sarà dedicata ai dipartimenti dell'area ingegneristica, a giurisprudenza ed economia e invece il sabato dopo Pasqua dedicheremo un secondo Open Day ai dipartimenti di lettere e filosofia, di lingue e al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. L'Open Day è l'evento classico nel quale noi proponiamo, coralmente con la presenza di tanti colleghi e di tanti amministrativi, la proposta formativa e i nostri servizi. E l'offerta come si è rinforzata negli ultimi anni? Negli ultimi anni la nostra offerta formativa è progressivamente aumentata, ogni anno abbiamo attivato qualche nuovo corso, le novità di quest'anno direi che sono essenzialmente due, sono a livello di lauree magistrali perché attiveremo presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, la laurea magistrale in Filosofia che completa quindi il percorso quinquennale di studi filosofici e sul fronte ingegneristico attiveremo la laurea magistrale in Tecnologie per la Salute. Se vogliamo c'è anche un'altra novità a un livello di dettaglio un pochino più basso che è il curriculum per educatori nei servizi sportivi attivato presso il corso di laurea in Scienze dell'Educazione. Ma non ci sono solo gli Open Day? No, naturalmente gli Open Day sono un momento in cui si dà grande evidenza la nostra attività di orientamento, ma la nostra attività di orientamento è un'attività permanente che dura tutto l'anno attraverso varie iniziative, progetti ponte con le scuole, fiere, saloni, iniziative di singole scuole che ci invitano a proporre la nostra offerta formativa o anche a fare interventi davvero orientamento al processo di scelta. Noi ne facciamo costantemente durante tutto l'anno con l'aiuto dell'ufficio orientamento, con la presenza di colleghi che nel territorio visitano le varie scuole che si rendono disponibili a questi incontri. Negli ultimi anni l'Università degli Studi di Bergamo è cresciuta molto e soprattutto in direzioni molto qualificanti, pensiamo anche solo all'internazionalizzazione. Sì, il nostro Ateneo si contraddistingue per una vocazione all'internazionalizzazione e molto elevato è l'investimento che l'Ateneo appunto fa sui servizi e sui fondi per i propri studenti, appunto per permettere a un numero sempre maggiore di anno in anno di effettuare un'esperienza di mobilità all'estero, sia per studio che per tirocinio, sia all'interno del percorso di studi che subito dopo, è indubbio che avere effettuato un'esperienza di mobilità all'estero sia un forte agente di cambiamento e un forte agente arricchente sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale. I dati di Alma Laurea, anche delle ultime indagini, ci dicono che un'esperienza all'estero dà una percentuale superiore di successo nel trovare un'occupazione qualificata e coerente con i propri studi al termine appunto del percorso. Quindi molto investimento nella ricerca di sempre nuove sedi con una coerenza rispetto ai nostri vari e numerosi percorsi e d'altra parte il sostegno economico direi decisamente anche superiore rispetto a altre Atenei appunto in Italia nel sostenere appunto quelli che sono i costi di una mobilità all'estero. E all'Università di Bergamo sarà dedicata anche l'anteprima Target in onda lunedì alle 19. In particolare faremo il punto sull'offerta formativa. Proseguiamo con il nostro Tg. Nel fine settimana le giornate del FAI approdano in Alta Val Seriana e Val di Scalve. Tra i beni culturali aperti al pubblico ci sarà anche la Casa dell'Orfano di Clusone. Ecco domani porte aperte alla Casa dell'Orfano con le giornate di primavera del FAI. Domani, sabato e domenica porte aperte grazie alla collaborazione e all'organizzazione del FAI che ci ha dato il supporto e ci ha dato la possibilità di aprire Casa dell'Orfano al pubblico. È un evento che non accade spesso, infatti c'è stata la prima apertura che era in occasione dell'inaugurazione della portineria. Domani è aperto a tutti, a tutti coloro che vogliono visitarla. Ci sarà un supporto particolare da parte dell'Istituto Fantoni con i ragazzi che faranno da guida. I due luoghi principali che verranno visitati sono la ex portineria con tutto il contenuto che riguarda sia i quadri che la biblioteca, che l'archivio, che le ceramiche e la chiesa. La chiesa è un'apertura inedita rispetto alla portineria che ha già avuto l'inaugurazione a novembre perché viene frequentata solo nelle occasioni delle messe in cui ci sono i gruppi di volontariato. Quindi gli orari di apertura sono sabato pomeriggio dalle 14 alle 17.30, la domenica mattina dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Per noi adesso è il momento di una pausa. Alla rientro vi mostreremo delle splendide immagini di paesaggi nordici, Norvegia e Islanda. Immagini che da domani saranno in mostra alla biblioteca di Albino. Poi parleremo di sport, di karate in modo particolare perché il Karate Club di Clusone è tornato dai campionati italiani con un bottino davvero invidiabile di medaglie. Riprendiamo con il nostro Tg. Domani alle 16 in biblioteca ad Albino sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata ai paesi nordici, in particolare Norvegia e Islanda. All'iniziativa sarà abbinata anche un'esposizione di gialli scandinavi. Dal 24 marzo al 7 aprile in biblioteca ad Albino una mostra fotografica dal titolo Nordisk. Spieghiamo il perché di questo titolo che è connesso alle immagini che poi saranno esposte. Nordisk in norvegese significa praticamente nordico. Per dare l'idea praticamente di un'atmosfera particolare, di paesaggi difficili, nel senso che possono essere anche situazioni difficoltose perché noi abbiamo sempre un'idea del freddo, che tutto vada bene, invece vivere lassù può essere molto difficile sia perché isolati sia perché il clima diventa veramente pesante in certe situazioni. Come nascono questi scatti che poi saranno esposti qui ad Albino? Ma in pratica sono risultato di diversi viaggi, uno in particolare in Islanda dove eravamo in un viaggio fotografico, gli altri invece sono risultato di viaggi auto-organizzati da me e da altri amici. In pratica abbiamo fatto tutto noi, trovato le località e io ho il vezzo di dire che sono degli scatti sia paesaggistiche che situazionistici, nel senso che cerco di rendere anche l'idea di particolari situazioni, non solo della bellezza del paesaggio ma di quello che potrebbe anche succedere da quelle parti. Perché vi affascinano i paesi nordici? Prima di tutto la tranquillità, è inutile negarlo, la prima cosa è di trovarsi da soli, il silenzio e poi anche l'idea di vincere, visto che tutti gli scatti sono fatti d'inverno, di vincere certe situazioni difficili. Ci si sente, non dico la stupidata eroi, però ci si sente partecipi di qualche cosa e di una difficoltà che si può superare. Quanti saranno gli scatti in mostra e quali sono le loro caratteristiche, qual è un po' la loro specificità? Più o meno una ventina, adesso stiamo organizzando bene la fissione. La specificità è che sono foto un bianco e nero per dare risalto alle forme e un viraggio che dia, cioè una colorazione di questi scatti che renda più o meno in qualche modo psicologicamente l'idea della situazione, cioè del freddo. Il viraggio è sul ciano blu, in pratica deve dare a chi visiona queste fotografie l'idea della percezione di una certa atmosfera. Alessandro Rovelli, appassionato di fotografia? Appassionato da una quarantina d'anni, sono appassionato stampo anche da 40 anni, quindi adesso che sono fortunatamente per me in pensione è il momento buono per ossessionarmi, come dico io, con questa splendida passione. Ricordiamo adesso chi organizza, chi promuove questa iniziativa. Dunque è organizzata l'Associazione Riparte in collaborazione con la biblioteca e il nostro scopo è quello di promuovere queste iniziative un po' su tutto il territorio, non solo di Albino ma anche nei paesi limitrofi. Ora la nostra associazione è nata al convento della Ripa, però attualmente visto che il convento è inagibile e causa ristrutturazione stiamo lavorando di più verso l'esterno. Questa mostra comincerà sabato 24, c'è l'inaugurazione alle ore 16, qui alla biblioteca di Albino. In contemporanea ci sarà anche l'esposizione da parte della biblioteca di libri di gialli nordici, di gialli scandinavi, che attualmente rivestono certi interessi per i lettori. Fino a quando si potrà visitare la mostra? La mostra è aperta durante gli orari della biblioteca fino al 7 di aprile di quest'anno. Il Karate Club di Clusone è tornato dai campionati italiani UKS con un pieno di medaglie, 4 d'oro, 5 d'argento e 6 di bronzo. Scopriamone di più. Domenica avete conquistato un po' di medaglie. Esatto, sì, domenica. Eravamo a Mazzano in provincia di Brescia a partecipare ai campionati italiani della sigla UKS Italia per il Karate. Si sono svolti i campionati italiani per le varie categorie di cinture di fasce di età. Ricordiamo quindi i medagliati. Allora, abbiamo vinto quattro titoli italiani. Ha vinto Zorzan Giorgia, Brasi Nicola e Filisetti Lorenzo. Questi tre ragazzi, vincendo il campionato italiano della loro categoria di cintura e di età, hanno vinto di diritto il passaggio di grado di cintura, quindi hanno acquisito anche la cintura superiore. Altri ragazzi hanno comunque fatto piazzamenti. Abbiamo portato a casa cinque medaglie d'argento e sei medaglie di bronzo, quindi è stata una soddisfazione notevole per il club e per i risultati ottenuti. Le prove si sono svolte sia per il katà, per la forma, che per il combattimento. I risultati principali e maggiori si sono avuti nel katà e nella forma, però abbiamo avuto anche qualche medaglia nel combattimento. Anche lei ha ottenuto un risultato personale. Esatto, sì, anch'io ho vinto la medaglia d'oro nella categoria Signores di katà, anche se sono un master, perché sono passata di categoria per la fascia di età, posso partecipare nella categoria più difficile, ho vinto nel katà e ho fatto una medaglia di bronzo nel combattimento. Allora, io mi chiamo Lorenzo Filisetti e domenica c'è stato il nazionale. I risultati sono stati in katà, ho fatto un oro, mentre nel comitè è un bronzo. È stata una gara abbastanza difficile, anche perché c'erano atletiche abbastanza forti che venivano da tutta Italia e da varie palestre, però comunque in complesso è stata una bella gara. Mi chiamo Giorgia Zorzana e domenica c'è stato il campionato italiano e sono arrivata prima e è stato molto difficile perché c'erano anche cinture molto più alte di me, cioè una cintura più alta di me e quindi sono molto contenta. Mi chiamo Maria Ballabeni, sono arrivata seconda e sono stata in categoria insieme a Giorgia. È stata una gara difficile, ma mi sono divertita tanto. Allora, io mi chiamo Nicola Brasi e ho cintura verde, sono diventato cintura blu perché ho vinto i campionati italiani a Mazzano, in provincia di Brescia, che erano una categoria, che erano verde e arancio, di cui sono riuscita a vincere portando un katà che non avevo mai portato. Allora, mi chiamo Alice Beccarelli, sono andata abbastanza bene e poi sono arrivata seconda e ho fatto uno spareggio per primo e secondo posto e sono arrivata seconda. Poi sono stata molto contenta perché c'erano anche un po' di cinture più alte di me. Ciao, io mi chiamo Rebecca, la gara è stata bellissima, mi è piaciuta. Non sono andata così tanto bene, però ce n'erano anche cinture più alte di me, però è andata bene. Ora la nostra rubrica Erbe e Salute, spazio ai consigli per star bene della dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti, questa sera vorrei parlarvi di una pianta che si chiama Agium cepa. Agium cepa non è altro che il nome botanico della cipolla. La cipolla la conosciamo tutti perché dal punto di vista alimentare è una delle verdure che utilizziamo in casa per fare il soffritto, le cipolline al forno, quindi diciamo che dal punto di vista culinario è ben nota. È un'erba biennale, quindi ha un ciclo di vita che dura due anni, è un'erba bulbosa, ma il ciclo di vita viene interrotto dopo un anno proprio per il raccolto dal punto di vista culinario. Quello che noi invece andiamo ad esaminare oggi è l'utilizzo di Agium cepa come rimedio omeopatico contro le riniti allergiche. Quest'anno il clima è stato clemente per le allergie perché questi sbalzi di temperatura hanno molto attenuato i sintomi, quindi sono pochi i giorni dove noi sentiamo proprio i problemi legati alla pollinosi. Perché calcolate che siamo alla fine di marzo, è tutto fiorito più o meno, ma i sintomi sono molto molto leggeri. Allora, Agium cepa, la diluizione omeopatica, viene utilizzato per asciugare il nostro gocciolamento, quindi le riniti allergiche, quando continuiamo ad avere il fazzoletto in mano perché continua a gocciarci il naso. È un rimedio che viene utilizzato fin dall'antichità. Calcolate che già nei tempi, la tradizione popolare possiamo dire, diceva che se noi rompiamo una cipolla a metà e la mettiamo sul comodino aperta per tutta notte, il raffreddore si asciuga. Sicuramente non sono contenti quelli che dormono con noi e tantomeno ci sarà un profumo gradevole in casa. Però se non avete niente da perdere, potete sempre provare. Molto meglio utilizzare i granuli o le gocce di Agium cepa in modo da non avere poi inconvenienti con quelli che dormono con voi. È un rimedio naturale, non ha effetti collaterali e può essere utilizzato anche nei bambini e nelle donne in gravidanza. Una piccola curiosità, la cipolla viene ritrovata addirittura nelle tombe dei faraoni egizi perché la tradizione egiziana pensavano praticamente che l'odore della cipolla ridonasse il respiro ai morti. Invece nell'antica Roma la cipolla veniva utilizzata per strofinare i muscoli dei gladiatori per rinvigorirli. Sono prodotti praticamente che ormai sono di comune utilizzo anche sulla nostra tavola per cui ben conosciuti e senza effetti collaterali. Fatevi consigliare la dose adeguata dal vostro pediatra, dal vostro medico di fiducia o farmacista. Arrivederci e buona serata. Per noi adesso una breve pausa, linea alla regia, ci rivediamo tra poco per la parte finale. Di nuovo in onda con il Tg, verso la fine di questa edizione con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20 la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.05 commercio ed intorni, trasmissione a cura del distretto del commercio Alta Val Seriana Clusone. Alle 20.30 un nuovo appuntamento con il nostro settimanale di informazione Target. Alle 22.15 Italia Economia, alle 22.30 la seconda edizione del Tg, alle 23.30 Decoder. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target. Questa sera un servizio dedicato a Uniacque, la società pubblica che gestisce gran parte del ciclo idrico in provincia di Bergamo. Faremo il punto sull'attività e sugli investimenti. Il canale sportivo 628, alle 20.30 la rubrica di sport invernali Ski Magazine, alle 22.30 il programma di motori Paddock. L'Almanaco, domani è sabato 24 marzo, il sole sorge alle 6.11 e tramonta alle 18.42. La luna è al primo quarto, sorge alle 10.47 e tramonta alle 3.21 di domenica. Infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo poco nuvoloso in quota, nubi medio-basse su Orobbie e Prealpi, con deboli nevicate possibili oltre gli 800 metri. Temperature ancora sotto le medie. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie. Grazie a tutti.